Buon martedì e ben ritrovati alla Rassegna Stampa di Laci, primo appuntamento con la nostra informazione. Andiamo a vedere subito cosa scrivono questa mattina i giornali sulle prime pagine, partendo dalla sanità che rimane il principale nodo al pettine della nostra regione. Ieri le prime dichiarazioni del commissario Scura, intanto il quotidiano lancia questa mattina un allarme, lo vedete qui in alto tutta pagina, proprio sulle cronache di apertura. Cosenza ci si deve ammalare a rate, la situazione nelle strutture private, non sono stati pagati 8 milioni di extra budget, il 60% dei ricoveri nei primi sei mesi, non più del 30% in estate. Questione di bilancio, intanto si è insediato il nuovo commissario Scura, in ufficio trova un sit-in, questa è l'accoglienza che viene riservata al nuovo commissario della sanità calabrese. Ancora dalla pagina di apertura del quotidiano, scandalo tangenti, i cantieri sulla Salerno Reggio e gli appetiti della Cricca, gli indagati, i rapporti con l'ANAS e l'incontro sollecitato con lupi sotto la lente di ingrandimento questa mattina nel pezzo a firma di Marco Cribari. Taglio centrale, sempre sulla prima del quotidiano, ripristinare il ponte sul Savuto, virgolettato che mette in evidenza come i sindaci, i cittadini e gli imprenditori si siano riversati ieri nell'area tirrenica catanzarese, esattamente sulla statale 18, in massa per chiedere il ripristino appunto del ponte Savuto. Il caso Lanzino, a quasi 28 anni dalla morte della giovane Cosentina, parla questa mattina a Giordano, DNA fino alla massima estensione, questa è la richiesta per provare a venire a capo del DNA dell'assassino. SOS Racket, polemica dopo l'allarme lanciato da Derao, una vittima chiarisce, chi non denuncia non ha alibi. E poi vedete il titolo, aziende e clan, l'affondo di De Masi, l'imprenditore annuncia se l'Andrangheta vince, è soltanto colpa nostra, frecciate anche a Confindustria. Fin qui la pagina di apertura del quotidiano del sud, ora spostiamoci sulle cronache del garantista, ricominciamo, vedete, dalle cosche che insomma sono ancora garanti del terrore, armi ed esplosivi all'ira, traffici internazionali sotto la lente di ingrandimento, il colonnello della finanza rivela, andiamo ad ingrandire lo zoom per vedere meglio, l'Andrangheta si fece mediatrice del carico partito dei Balcani e destinato all'organizzazione irlandese, la consegna doveva avvenire in mare fra Branca Leone e Merito Porto Salvo. Il tutto emerge dall'operazione Galaxy, sempre dalle cronache di questo giornale, la sanità scura, avvio prudente, devo leggere le carte, venerdì il neocommissario nominato dal governo vedrà Oliverio, molto socratico, quindi l'insediamento nell'ufficio del commissario al pieno di rientro al debito sanitario per Massimo Scura, una sola cosa si è detto certo di sapere, cioè quella di non sapere o di sapere poco, quello che ha potuto leggere dalle scarne carte e fin anche dai racconti riportati da parenti e amici calabresi. Questa è la situazione, certo il commissario Scura ha garantito ieri che si lavorerà sodo al ripristino del regime ordinario del sistema della sanità calabrese, i dettagli in questo servizio. Lavoreremo duro, lavoreremo sodo, dice Massimo Scura. Il neocommissario alla sanità in Calabria si è insediato stamani nel suo ufficio di Catanzaro col governatore Mario Oliverio fuori sede, diversi contatti telefonici in questi giorni. Presto si incontreranno. Nel pomeriggio invece, vertice con i neocommissari delle aziende sanitarie provinciali e delle aziende ospedaliere. Ha preso visione Massimo Scura del disegno di legge di riordino del comparto varato dalla giunta regionale. Ho appena visto la delibera generale. Non conosco il progetto, non conosco le motivazioni, quindi non ci si può esprimere su una cosa di questo genere. Diciamo che l'obiettivo di fondo è migliorare la qualità della sanità dei calabresi, dei bimbi, delle donne, degli uomini, degli anziani, eccetera. Se questo progetto di unificazione delle asle e delle aziende ospedaliere in un'unica azienda sanitaria ospedaliere regionale è propedeutica a questo obiettivo, ben venga. Scura, tra le priorità, affronterà il futuro del polo oncologico di Germaneto ormai prossima alla chiusura, che avrebbe effetti devastanti su pazienti e lavoratori, quindi la necessità di rafforzare gli organici negli ospedali. Noi abbiamo bisogno di competenze, molte ci sono, so che esistono anche delle eccellenze nella sanità calabrese, so anche che molti servizi sono all'osso, nel senso che mancano medici, infermieri, OSS, tecnici e quant'altro. Quindi adesso so che c'è stata questa apertura sostanzialmente, che è un'apertura generale anche nazionale dal governo, per l'assunzione di un certo numero di operatori a tutti i livelli, va assolutamente preso in considerazione quelle che sono le priorità, le necessità più importanti, più delicate per poter dare delle risposte, perché tra l'altro sono risposte a domande che ormai sono quasi andate in dissoluzione. Bene, fin qui le parole del mio commissario della sanità calabrese Massimo Scura, cambiamo adesso argomento, parliamo di carceri, rimanendo sulla prima pagina della Garantista, ecco il rapporto allarmante, oltre la metà degli istituti penitenziari calabresi è sovraffollata, sono sei i penitenziari che scoppiano, tre in provincia di Cosenza e tre in provincia di Reggio Calabria, ma attenzione, ci sono anche case circondariali con cinque detenuti, ad esempio a Crotone, e alla mezza terme addirittura la struttura è chiusa, questa l'analisi che traspare stamane dalle pagine del Garantista. La politica regionale, PD in crisi, Magorno isolato, resa dei conti nella prossima assemblea regionale, questo è il punto interrogativo stamane del quotidiano diretto da Sanzonetti, come sapete l'assemblea del PD non si riunisce da tempo, per il prossimo 31 marzo potrebbe arrivare a Falerna anche il vice segretario nazionale Lorenzo Guerini da chiarire alcuni aspetti, soprattutto nelle vicende politiche che hanno interessato il partito nelle fasi post-elettorali. Ancora dalla pagina d'apertura del Garantista, Calabria Verde, allarme dei dipendenti che vogliono chiarezza su contratti e nomine. Ovviamente l'azienda Calabria Verde è ancora sul piede di guerra. Poi il taglio alto dalla prima pagina di questo giornale, quel treno viaggiava a 54 km orari, l'incidente probatorio fisso è il primo dato, ricorderete il terribile sinistro avvenuto nel Catanzarese lo scorso anno, ecco i primi dettagli rispetto alle condizioni e alla velocità in cui viaggiava il treno. Sangue infetto a Cosenza, l'inchiesta prosegue, il Pubblico Ministero, tutti gli imputati a processo, questa è la richiesta del PM, mentre il GUP dovrà pronunciarsi su quanto accaduto. Andiamo alla prima pagina della provincia di Cosenza, ricominciamo dalla sanità, perché quella cosentina è in subbuglio decisamente, poi vedete truffa all'Inps, ecco alla finanza, sono i due principali argomenti che il giornale pone all'attenzione del lettore stamane nelle primissime pagine. Scura, attenti, non c'è tripa per gatti, avete appena sentito il neocommissario della sanità calabrese che ha comunque riconosciuto l'esistenza di alcune eccellenze nella nostra regione. Si torna alla morte del magistrato Bisceglia e alla confessione di Eva, ancora da chiarire i dettagli della scomparsa del giudice. Infine, sempre dalla prima pagina della provincia di Cosenza, Amaco e Mayerà Show, i bus li ho acquistati io, sempre in riferimento alle autolinee della città dei Bruzzi. Cronache interne, ricominciamo dal quotidiano del sud e ripartiamo dal sistema Salerno-Reggio Calabria. Gli appetiti della cricca sulla A3, l'appalto del cantiere calabrese sforava di 70 milioni, per sbloccarlo venne chiesto l'intervento del ministro Lupi, le intercettazioni degli indagati con i dirigenti dell'ANAS e quell'incontro con Lupi finiscono questa mattina nel pezzo di Marco Ocribari. L'appalto complessivo, lo ricordiamo, era di 424 milioni per realizzare 21 chilometri di autostrada e insomma il costo pare fosse lievitato prima a 500, poi a 530, poi addirittura a 600 milioni. Questo almeno ciò che viene ricostruito stamane dalle cronache del quotidiano. Sanità scura, priorità alla qualità. Il commissario si è insediato e ha già incontrato i vertici delle aziende a dargli il benvenuto ai dipendenti della Fondazione Campanella da giorni in sit-in permanente nel suo ufficio. I pazienti oncologici sono riuniti in comitato, per giovedì è previsto addirittura un momento di preghiera, ma davvero tra loro alberga tanta disperazione. Sentiamo. I pazienti in cura alla Fondazione Campanella di Catanzaro, prossimo ormai alla definitiva chiusura, hanno costituito un comitato e annunciano che giovedì prossimo alle 11 ci si ritroveranno nella cappella San Giuseppe Moscati del campus di Germaneto per celebrare il precetto pasquale. In questi giorni, da parte loro, non sono mancati gli appelli rivolti dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella al Santo Padre. A noi, dicono i pazienti del polo oncologico di Germaneto, non interessano le manifestazioni di piazza, le proteste plateali, la politica o cose del genere, bensì la nostra salute e la preghiera. Non è tanto la morte a spaventarci, continua la nota dei malati oncologici, ma il distacco fisico dei nostri cari. Alcuni di noi hanno figli invalidi che hanno quotidianamente bisogno della nostra assistenza e quando avremo perso definitivamente la nostra battaglia contro il male, che ne sarà di loro? In che mani, dicono, finiranno, se non ci sarà un fratello o una sorella che si sostituirà a noi per il resto della loro vita? Il Comitato Pazienti Oncologici della Fondazione Campanella invita tutti i calabresi, nonché le autorità provinciali, regionali, civili e religiose, a partecipare al precetto pasquale di giovedì, condividendo la sofferenza con un momento forte di preghiera che vedrà, tra le altre, la presenza di Vincenzo Iezzi, responsabile diocesiano dell'Ufficio per la Pastorale Sanitaria, del cappellano del Policlinico, Don Antonio Varano, e del personale dell'intero campus universitario. Ancora sanità in primo piano, a Cosenza ricoveri soltanto a rate, andiamo a vedere il titolo, sempre dal quotidiano del Sud, non pagati 8 milioni di extra budget alle cliniche private. In provincia, nella provincia Abruzia, ovviamente bisogna ammalarsi a rate, scrive Adriano Mollo, il 60% nei primi sei mesi dell'anno, non più del 30% in estate, poi tra novembre e dicembre il 10%. Questa è l'amara constatazione di un amministratore di una clinica privata che ha letto la comunicazione dell'ASP firmata dal dirigente Raffaele Bruno e risalente allo scorso 19 marzo. Comunicazione che richiama il rispetto dei budget, così come da direttivo dell'Ufficio del Commissario. Davvero inquietante questa vicenda. Rimaniamo sulle pagine calabresi di questo giornale. L'Andrangheta vince, colpa nostra l'imprenditore che denunciò i clan commenta l'allarme del Procuratore della Repubblica di Reggio Calabria Federico Caffiero Derao che nei giorni scorsi ha asserito senza sé e senza ma che almeno nel Regino gli imprenditori continuano a non denunciare. De Massi si scaglia contro una cultura che definisce filo mafiosa, frecciate, dirette anche a Confindustria. Devo dire grazie a tuonato De Massi soltanto a Don Ciotti e dai sindacati. Cambiamo argomento, spostiamoci di nuovo da Reggio a Cosenza. Inps raggirata, 518 persone sono state denunciate, percepivano l'indennità di accompagnamento anche se ricoverati in ospedale. Il danno ammonta ad 800 mila euro. La finanza procederà con il recupero delle somme. Da Cosenza a Catanzaro, scontro sui binari, arriva la perizia svolta nell'inchiesta sul disastro ferroviario che provocò 80 feriti. Servirà a far luce sull'impatto fra due treni avvenuto nel marzo dello scorso anno. Gli atti tornano dunque al pubblico ministero Andrea Mancuso. Sarà lui che, in base al documento prodotto dal perito, deciderà sulle eventuali responsabilità in merito alla vicenda dello scontro fra due convogli che davvero poteva finire in tragedia. Fortunatamente non è stato così anche se i feriti furono davvero tanti, almeno 80 persone. Nel Cosentino, a Campora, a manifestazione per il ponte sul Savuto, ancora protesta. L'appello alle autorità perché si intervenga su una viabilità ormai in ginocchio. Amministratori, imprenditori e cittadini manifestano sulla strada statale 18. E poi il via libera al progetto Garanzia Giovani. Vedete qui l'inquadratura intesa con le imprese. Guccione chiarisce il sud e è stato lasciato solo. Ricordiamo che il progetto mira a dare garanzie a circa 42 mila ragazzi calabresi di età compresa fra i 15 e i 29 anni che non studiano e non lavorano il servizio. Garanzia Giovani passa alla fase operativa. Stamani l'assessore regionale a lavoro Carlo Guccione e il presidente di Un'Industria Calabria Natale Mazzucca hanno infatti siglato il protocollo d'intesa per dare attuazione al piano finanziato con fondi europei e indirizzato a favorire l'occupazione e la formazione di circa 42 mila giovani calabresi tra i 15 e i 29 anni. L'assessore Guccione ha confermato che i bandi saranno pubblicati il prossimo 7 aprile mentre il patto con Un'Industria consentirà di fornire un'interfaccia tra le aziende e i ragazzi inoccupati. La formazione degli iscritti allo Stato sono ben 25 mila sarà infatti effettuata attraverso una rete di stage e tirocini formativi retribuiti a 438 euro al mese direttamente nelle aziende che ne faranno richiesta e questo è uno dei punti cardine del protocollo d'intesa sottoscritto oggi. Al termine del tirocino l'azienda potrà quindi scegliere se approfittare del bonus occupazionale di garanzia giovani e degli sgravi fiscali concessi dal governo per assumere i giovani appena formati trasformando quindi i contratti di tirocino incontrati a tutte le crescenti ovvero quelli previsti dal Jobs Act. Per quanto riguarda invece la promozione e la messa in rete tra la domanda e l'offerta di lavoro oltre ai centri per l'impiego medesime funzioni potranno essere svolte dai comuni e da società private accreditate. All'incontro di stamani erano anche presenti Daniele Rossi presidente di Confindustria Catanzaro e Antonio Gentile presidente di Confindustria Vibo Valencia. Cambiamo argomento torniamo ad occuparci del delitto lanzino perché questo fanno stamani i principali quotidiani calabresi noi rimaniamo sul quotidiano del sud sarà caccia senza quartiere il procuratore di Paola commenta la scoperta del DNA del killer di Roberto Giordano utilizzeremo la nuova prova fino alla massima estensione dunque questo è il piano messo in atto dalla procura andiamo a vedere l'attacco del pezzo a firma di Paolo Orofino la nuova prova sarà utilizzata fino alla sua massima estensione le parole decise del procuratore di Paola Bruno Giordano riferite all'individuazione del DNA dell'assassino di Roberto Lanzino danno l'idea di cosa accadrà da qui a breve tra Paola e Cosenza il procuratore ha ufficializzato l'apertura di una nuova inchiesta per dare un'identità al profilo genetico isolato dal ris di Messina dopo ben 27 anni dall'efferato delitto prima nonostante i diversi prelievi di liquido seminale a disposizione nessuno era riuscito a individuare il DNA del violentatore della ragazza cosentina invece con un colpo a sorpresa il processo in atto in corte d'assise i RIS durante il processo in atto in corte d'assise i RIS sono riusciti ad isolare le tracce di sperma miste al sangue dalla giovane vittima presenti in un pugno di Terriccio Terriccio che fu prelevato nell'immediatezza del fatto da sotto la testa del cadavere ritrovato in un'area impervia del comune di Falconara Albanese tra Paola e Cosenza fin qui la vicenda legata al delitto Lanzino cambiamo argomento oppure rimanendo in ambito giudiziario banca rotta c'è pure Zemaria tra le sei persone rinviate a giudizio nell'ambito dell'inchiesta contro Topoli 2 per quanto concerne il crack del Catanzaro Calcio diverse le persone che dovranno comparire dunque dinanzi ai giudici andiamo a vedere di chi si tratta l'ex amministratore unico della società Antonio Aiello l'ex tecnico brasiliano Giuse Marcello Ferreira noto come Zemaria 40 anni peraltro ex giocatore dell'Inter il suo ex Vito Filippo Di Piero i calciatori Izzia Malbun D'Agrirà Joan José Martinez l'ex direttore sportivo Claudio Pasicatu Kemalandu meglio noto come Malù insomma sei persone che dovranno rispondere nel processo che inizierà il prossimo 7 luglio stracciato invece la posizione del presidente del Catanzaro Giuseppe Soluri quindi nulla da eccepire per quanto riguarda quest'ultimo le cronache regionali dalle pagine del Garantista andiamole a vedere insieme partendo proprio dalle questioni politiche perché è crisi di nervi dentro il PD Magorno è sempre più isolato la leadership è sempre più la sua leadership sempre più a rischio si ammonticchiano le richieste dei dimissioni mentre si avvicina l'assemblea regionale che potrebbe trasformarsi in un redderazionem finale da capire bene quale sia il futuro del PD calabrese la posizione del segretario è finita nel mirino del partito stanno esplodendo a macchia di Leopardo le contraddizioni in un PD che è sempre tornato indietro alle battaglie infinite tra correnti che porteranno a lungo commissariamento il segretario Magorno non riesce a tenere dritto la barra dopo aver perso sonoramente le primarie contro i bersaniani di Oliveri adesso rischia l'isolamento totale da Catanzaro arrivano richieste di dimissioni alla mezza le primarie per la scelta del candidato sindaco sono state messe nel congelatore ci sono poi in ballo i destini di tre federazioni provinciali Bibbo Catanzaro e Reggio retta da Mirabello Bruno e Romeo che occupano altrettante cariche incompatibili secondo lo statuto come se non bastasse il segretario con le scelte effettuate negli ultimi mesi ha finito con lo scontentare tutti tentare di evitare ad esempio le primarie per poi puntare su Callipo ha finito per quanto riguarda la corsa alle regionali con il consegnere la vittoria a Bersaniani e mettergli in un angolo quella che doveva essere la maggioranza del partito dopo il voto del 23 novembre Magorno è sembrato tendere la mano ad Oliverio anche in questo caso indispettendo la sua corrente che non si è tutelata nelle scelte del governatore sia in ordine alla giunta che del resto delle nomine alla fine però Magorno dopo aver sostenuto la corsa dell'attuale governatore verso la poltrona di commissaria d'acta per il piano di rientro e il deficit sanitario è stato costretto a fare marcia indietro insomma una serie di ragioni che vi abbiamo voluto leggere proprio per chiarire quanto sia debole in questo momento la posizione del segretario regionale della PD calabrese e soprattutto il suo livello di credibilità presso i maggiorenti del medesimo partito siglato ieri il protocollo siglata l'intesa tra Regione e Confindustria via libera dunque al progetto garanzia giovani presso dai sedi territoriali saranno avviati gli sportelli informativi e tutti i dettagli sono stati chiariti dall'assessore Carlo Cuccione che ha incontrato il presidente di un'industria Calabria Natale Mazzucca noi li abbiamo sentiti entrambi cambia sicuramente tanto perché per la prima volta condividiamo un progetto del lavoro con il sistema delle imprese poi il sistema delle imprese che deve dare lavoro deve dare occupazione diventiamo come un'industria Calabria con i nostri presidi territoriali lo sportello di accoglienza e anche di orientamento e di indirizzo per quanto riguarda i giovani perché va data larga diffusione a questi giovani che da 15 a 29 anni nel lavoro non ne studiano sono quasi rassegnati non possiamo assolutamente subire tutto questo noi che siamo protagonisti del sistema economico e della crescita delle regioni vogliamo dare opportunità sia di lavoro che di formazione perché la cosa fondamentale è anche avere competenze e conoscenze per trovarsi pronto quando riparte il mercato del lavoro il protocollo di questa mattina serve proprio questo con un'industria della possibilità ai giovani che parteciperanno a Garanzia Giovani dai 15 ai 29 anni di avere un'industria impegnata a far incontrare questi giovani con il mondo delle imprese calabrese attraverso dei servizi attraverso un protocollo di intesa che deve servire a dare la possibilità che per la prima volta in Calabria ci possa essere questo incontro attraverso i tirocini l'apprendistato attraverso le assunzioni che si potranno realizzare a Garanzia Giovani per il fatto che si sarà la possibilità di sommare le agevolazioni del Job Act col bonus occupazionale che è una misura prevista da Garanzia Giovani che di fatto può abbattere di 50% il costo del lavoro Ancora dalle pagine regionali del garantista procediamo con l'analisi sanità prima uscita ufficiale per il commissario Scura vedete il titolo di fatto ha rinviato tutto alla conferenza stampa della prossima settimana venerdì incontrerà Oliverio mentre ieri ha visto i manager di Asp e i dipendenti della Campanella e sull'azienda unica ha chiarito leggerò bene le carte ancora dalle cronache di questo giornale dubbi su contratti e nomine protesta a Calabria Verde storica assemblea dei dipendenti che chiedono al direttore generale di fare presto chiarezza del tema ci siamo già occupati patti criminali così i clan di Afri consiglavano accordi con i terroristi dell'Ira l'ufficiale della guardia di finanze a Mazzacuva in aula racconta il legame tra Lendrine e il gruppo armato berlinese poi ancora su questo tema a Contrattopoli a Catanzana andranno tutti in processo e gli indagati dello scandalo che riguarda il fallimento della società sportiva e della città capoluogo aperto un fascicolo a parte solo per Giuseppe Soluri i dettagli dunque in questo servizio che riepiloga l'intera vicenda giudiziaria Giocatori coach direttore sportivo ed ex amministratore unico della football club del Catanzaro Calcio a giudizio il gruppo Pietro Scuteri ha mandato a processo nell'ambito dell'inchiesta Contrattopoli 2 il dirigente Antonio Aiello l'ex mister Marcello José Ferreira noto come Zemaria l'ex vice allenatore Vito Filippo Di Pierro e i calciatori Izia Mabundun Gadrira e Juan José Martínez l'ex direttore sportivo conosciuto come Malù attuale opinionista con l'accusa di bancarotta fraudolenta mentre Giuseppe Soluri coinvolto anche lui nell'inchiesta e al quale viene contestata la stessa ipotesi di accusa all'epoca dei fatti procuratore speciale della società calcistica e attuale presidente dell'ordine dei giornalisti della Calabria il giudice per le udienze preliminari ha disposto l'audizione di Nazario Sauro segretario generale della società nella scorsa udienza Aiello assistito dall'avvocato Aldo Casalinuovo aveva ammesso di aver firmato i contratti ma che a gestire le cose sarebbe stata la maggioranza tenuta da tribuna gialla Soluri difeso dell'avvocato Nunzio Raimondi aveva presentato una memoria con tanto di documenti allegati da cui si evincerebbe la sua estraneità ai fatti confermando l'assenza di profili di legittimità il documento che indotto oggi il GUP a disporre ulteriori accertamenti il processo per le sei persone rinviate oggi a giudizio inizierà il prossimo 7 luglio secondo le ipotesi accusatorie giocatori coach direttore sportivo e vertici hanno cagionato con dolo e per effetto di operazioni dolose il fallimento della società nella stagione calcistica 2010-2011 quando le condizioni economiche finanziarie della società erano ormai al limite e le gare di campionato venivano svolte a porte chiuse per la mancata copertura economica dei vari servizi annessi all'organizzazione delle partite dunque procediamo con l'analisi delle pagine regionali del garantista chiuse deserte o sovraffollate oltre la metà delle carceri calabresi scoppia mentre a Crotone ci sono solo 5 detenuti e alla mezza il penitenziario è off limits ecco il rapporto che chiarisce come si faccia un cattivo uso delle strutture penitenziarie alla punta dello stivale poi la morte della piccola Sara Sarti lo ricorderete deceduta nel 2009 nell'ospedale di Locri abbiamo sfidato il sistema e chi doveva rappresentarci ci ha trattato da criminali parole durissime che vengono scritte alla redazione del garantista dalla mamma della piccola la signora Caterina Nicita che ovviamente ha subito si è sfogato insomma dopo aver subito le angherie frutto dell'inefficienza del sistema lo sfogo vedete della donna dopo la richiesta di assoluzione della procura per i presunti responsabili della morte di Sara Sarti truffa all'Inps di Cosenza indagate 518 persone avrebbero percepito indebitamente la pensione di accompagnamento e questo è il risultato dell'inchiesta auxilium condotta dai finanziari del nucleo di polizia tributaria del comando provinciale di Cosenza rimaniamo sempre sulle pagine del garantista andiamo all'apertura catanzarese fondazione campanella in primissimo piano anche questa mattina i pazienti scrivono a Papa Francesco nasce il comitato davanti al silenzio delle istituzioni i malati si uniscono per fare da cassa di risonanza all'avvertenza del polo oncologico e proprio da qui ripartiremo subito dopo la pausa pubblicitaria dunque rimanete sulla C perché tra pochissimo la rassegna stampa riprende con l'analisi delle cronache regionali e provinciali dai principali giornali calabresi vi aspetto visita il sito www.lacnews24.it oppure scarica l'app sul tuo smartphone o tablet per essere aggiornato 24 ore su 24 7 giorni su 7 sulla Calabria che fa notizia